Ha riaperto oggi la cooperativa di Antrona e il nuovo gestore è Gigi Motetta di Villa Dossola. Lo scorso ottobre l'appello sui media locali per cercare una persona che volesse impegnarsi nell'attività. Il vecchio gestore andava in pensione e il bando per trovarne uno nuovo era andato deserto. Quello che era un punto di riferimento per tutta la comunità, peraltro un negozio con guadagni interessanti, rischiava di non avere un futuro. Oggi il lieto fine di questa storia con Gigi che ha deciso di rimettersi in gioco seppure tornando alle origini. La sua famiglia infatti ha sempre gestito un alimentare a Villa Dossola, lui è cresciuto nel retro bottega. Poi la decisione di prendere altre vie fino a questa nuova avventura, mi si è accesa una lampadina, la cosa mi intrigava, ci dice. Gigi, 55 anni, sposato con tre figli, al momento gestirà da solo l'attività commerciale, continuerà a vivere a Villa facendo su e giù. È peggio perché tutti i giorni deve andare a Milano, sdrammatizza. Cambierà qualcosa? Per ora no, la clientela è quella abituale che si aspetta certe cose, conclude. Già il da negozio nei mesi estivi serve anche molti turisti, ma in questo periodo i clienti sono gli abitanti di Antrona, molti dei quali ancora segnano. Una quarantina e i libretti ereditati da Gigi. Si annota la spesa giorno dopo giorno, il cliente paga, poi a fine mese. Una tradizione e un sinonimo di fiducia, un tempo molto diffusa nelle botteghe di paese, oggi soppiantate dai supermercati dove imperano banco, mate, carte e di credito.